Giungono già i primi riscontri per i visitatori della mostra Sala Modelli Unità Navali allestita all'interno del Castello Ragonesi di Taranto, diventato ormai uno dei monumenti più visitati in Puglia. I modelli esposti, realizzati dal maestro d'ascia Erminio Fazioli, donati alla Marina Militare dal figlio Giorgio Fazioli, costituiscono l'allestimento permanente del maniero, catalogati e etichettati secondo un nesso tra le vicende storiche del castello e la città di Taranto. Un'altra iniziativa voluta dall'ammiraglio Biaggi che così continua ad aprire le porte della Marina Militare alla città e ai turisti. Noi come Marina Militare siamo ovviamente impegnati in un percorso di valorizzazione del castello da parecchi anni, un percorso che continuerà con l'intento di portare avanti un'attività di promozione della storia e della cultura tarantina, ma soprattutto della cultura marittima legata al DNA marittimo del nostro paese. Il castello è decisamente un simbolo e un pilastro della vocazione marittima di Taranto. E quindi oggi, nella giornata di oggi, abbiamo non soltanto presentato la mostra, ma anche presentato quelli saranno i progetti futuri di valorizzazione del maniero.